Il sistema della formazione professionale duale, quello che viene comunemente chiamato l'apprendistato, permette di entrare direttamente nel mondo del lavoro. L'offerta formativa si basa quindi sulle qualifiche professionali effettivamente richieste e sui posti di lavoro disponibili. Le aziende formatrici sono le aziende dove i giovani apprendisti effettuano la loro formazione pratica in parallelo alla frequentazione dei corsi teorici presso una scuola professionale e dei corsi interaziendali organizzati dalle organizzazioni del mondo del lavoro. Per poter formare un giovane devono dimostrare di possedere dei formatori attivi con un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione, oppure possedere una qualifica equivalente e avere tutti i requisiti, strumenti e competenze professionali e personali necessarie. Vediamo che nel 2022 erano quasi 2.500 le aziende formatrici nella Sessera italiana, a fronte di quasi 6.400 giovani in formazione, una media quindi di 2.6 apprendisti per ogni azienda, anche se in realtà le aziende che hanno più di due giovani in formazione sono meno del 23%. Nel 2022 sono state autorizzate a formare 239 imprese. Non tutte le aziende decidono però di assumere apprendisti ogni anno. Molto spesso ci sono infatti delle pause tra un periodo di formazione e l'altro. In totale le aziende con autorizzazione a formare sono poco più di 5.000 nel nostro cantone. Queste aziende contribuiscono a colmare il divario tra la domanda e l'offerta di competenze sul mercato del lavoro, offrono una formazione pratica e specializzata e aiutano a soddisfare la domanda di competenze da parte delle imprese e del mondo del lavoro. Queste aziende formatrici sono un elemento cruciale per la sostenibilità dell'economia a lungo termine. Attraverso la formazione degli apprendisti contribuiscono a sviluppare una forza lavoro altamente qualificata e altamente specializzata, che può sostenere la crescita economica e l'innovazione del nostro territorio. Il contributo dell'industria ticinese al sistema della formazione professionale cantonale è rilevante sia in termini di apprendisti sia in termini di aziende formatrici, ma così come a livello di sbocchi professionali e di carriera. Ringraziamo quindi tutte le aziende e i formatori che seguono e formano i nostri giovani con passione e competenza. Grazie.